Le chiese della Valle Peligna tornano protagoniste della scena nazionale e internazionale. Dopo le messe trasmesse in diretta su Rete4 il 16 e il 23 ottobre 2011 dal Santuario della Madonna della Libera di Pratola Peligna, è la volta di Raiano con la splendida chiesa di Santa Maria Maggiore, da poco restituita ai cittadini in seguito al restauro per i danni causati dal sisma 2009. Non si tratta di una diretta televisiva questa volta, ma radiofonica. La troupe di Radio Maria trasmetterà in diretta domani la messa ufficiata da Don Egidio Berardi. Nata nel 1983, dal 1990 Radio Maria irradia la propria programmazione su tutto il territorio nazionale e grazie alle frequenze televisive dietro il SAT Hotbird riesce a farsi ascoltare anche oltre i confini nazionali. Il collegamento in diretta avrà inizio alle 7.30 con il Rosario seguito dalle Lodi e dalla Santa Messa e la funzione religiosa potrà essere eseguita, oltre che in radio e sui canali Eutelsat, anche via web sul sito ufficiale www.radiomaria.it. Ad occuparsi dell'animazione saranno i giovani del coro parrocchiale diretto da Carmine Omogrosso. Quando a Pratola arrivarono le telecamere di Rete 4 a seguire la messa ci furono 1.200.000 telespettatori tra abruzzesi, italiani e pratolani all'estero. Un appuntamento da non perdere dunque per i tanti cittadini originali di Raiano che per ragioni di studio e di lavoro vivono all'estero e che grazie alle antenne di Radio Maria avranno la possibilità di ascoltare la messa ufficiata nella loro chiesa madre celebrata da un parroco di Raiano.